Buonasera, bentornati a Talk Sicilia. Oggi parliamo di scuola e ne parliamo con un protagonista degli ultimi 40 anni di storia della scuola in Sicilia. Per questo tu hai il benvenuto a Maurizio Giuseppe Piscopo. Buon pomeriggio, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando e buon pomeriggio a te. Il maestro Piscopo ha una storia particolarmente interessante che noi cercheremo di raccontarvi nella maniera più dettagliata possibile, perché il maestro Piscopo non è soltanto un maestro di scuola elementare, sentite come suona bene la poesia di questo termine, ma è anche uno scrittore, è anche un compositore, un musicista, un esperto radiofonico, insomma un'attività poliedrica. Però tutto nasce, come dire, dalla tua passione per la scuola. Sembrerebbe, la tua biografia ci racconta, che nel 68 tu hai fatto una sorta di fioretto a San Francesco d'Assisi, no? Hai deciso di dedicare la tua vita ai ragazzi, ai bambini più piccoli, alle scuole elementari. È nata così la tua carriera nella scuola? Sì, ho fatto un viaggio a D'Assisi, che è un paese bellissimo. Io sono nato in un paese difficile e amaro che è Favara, ed un prete mi ha detto tu devi uscire da questo paese, devi vedere altre esperienze, altre realtà. E sono andato alla cittadella di Assisi, dove c'era un convegno per i giovani. Quel convegno un po' ha cambiato la mia vita, perché c'erano scrittori, musicisti, e poi girando per le strade di questo bellissimo paese, io consiglio a tutti sempre di vederlo, per chi non l'avesse visto nella propria vita, ho avuto come un'ispirazione. lì ho scritto un brano che si chiama Cristo è sempre assenti, che poi è stato pubblicato in un libro di Garzanti da Virgilio Savone e Michele Straniero. E in quel momento ho deciso di fare il maestro, ma ho chiesto a Francesco se mi aiutasse a fare maestro in una maniera diversa, perché il mondo dell'infanzia è affascinante, ma è anche difficile, è anche complesso. Peraltro è la prima base di socializzazione che si offre alle future generazioni, quindi il compito dei maestri elementari è abbastanza complicato. Tu poi, perdonami, ora ti lascio un momento alla parola, hai iniziato in scuole di periferia, nei quartieri più degradati di Palermo, in giro. Cioè, con la tua esperienza didattica e formativa, come si riesce a strappare questi ragazzini all'infamia dei quartieri da dove sono nati? Allora, io mi sono posto tante domande, ho cercato di costruire la chiave di lettura del maestro, mi sono portato la fisarmonica a scuola, in classe. Poi, in un sacco di juta, ho raccolto tanti strumenti piccoli che glieli dava ai bambini e li facevo suonare. Ho organizzato i cori e quindi queste cose loro li affascinavano, che quando sono entrato in una prima elementare con questo sacco, ho detto ai bambini, ma li conoscete gli oggetti che ci sono all'interno? Ho messo radio piccole, ho messo altri oggetti, giochi di una volta, le tortole per giocare di legno, di faggio. Ho messo un po' un mondo che scompare, un mondo che non c'è. E loro lo hanno accolto bene, benissimo, perché quando arrivavo, mi dicevano le altre maestre, gli occhi di questi bambini luccicavano, erano contenti di trascorrere un momento con me. Io rispondevo a tutte le domande che loro facevano, avevo un momento per giocare con loro e i primi 15 minuti li ascoltavo. Certe volte mi sedevo con i bambini, è come se il maestro là dentro non ci fosse. E dico una cosa, tante cose io le ho imparate dai bambini e le ho riportate nei libri, le cose che ho imparato proprio da loro. Perché tra le tue tante attività c'è anche quella di scrittore. Tu sei al 16esimo tra romanzi e saggio, sono soltanto romanzi? No, sono stati libri vari, il romanzo lo scriverò quest'anno. Sono stati libri che parlavano di musica, parlavano dei barbieri, parlavano di emigranti che andavano nella lontana America, cercavano i sogni degli emigranti, cercavano loro, invece hanno trovato la fatica, il dolore. Alcune persone sono morte durante il viaggio, come Margherita, una bambina molto piccola di cui io racconto. Per tanti anni ho mantenuto questo segreto di questa bambina, poi l'ho voluto raccontare in un libro che si chiama America, viaggio verso il nuovo mondo, pubblicato da Shash Editore insieme a Salvatore Verlita, che è uno scrittore siciliano tra i più importanti. Ora facciamo una piccola parentesi e vorrei raccontare a chi ci ascolta qual è la tua ultima fatica letteraria. Tu hai scritto una collezione di poesie dedicata ai bambini, perché tu sei ormai in pensione, non insegni più. Da tre anni sei in pensione, però hai ricevuto anche la medaglia come miglior maestro siciliano. Mi hanno dato una targa al liceo Umberto, liceo internazionale di Palermo, come un maestro è per sempre. Un maestro è per sempre. Che era poi Rodari, il maestro è per sempre, quindi un maestro che continua la sua vita anche dopo, non ti finisce mai di essere mai fermato. Io sono laureato all'Università della Barba, questa è una cosa particolare. Anche io se mi guardi in faccia all'Università della Barba dovrei prendere una specializzazione in pizzetto probabilmente. Perché Franco Alfonso, barbiere del Presidente della Repubblica Mattarella, ha voluto un giorno incontrarmi nel suo salone ed io ho discusso la tesi quando si partiva per la lontana America e ho suonato le musiche dei barbieri. Pronto vi prego la regia di mandare un contributo vivo che abbiamo perché tu, ora poi ritorniamo a parlare anche del tuo ultimo libro, ma tu tra le tante esperienze che hai compiuto sei andato anche in giro in Francia a imparare a suonare strumenti abbastanza simili a quelli della nostra tradizione. La Fisermoni che io andavo in un quartiere dove c'era un vecchietto che aveva suonato in un film di Marcel Carnet e io ho detto ma questo suona in una maniera straordinaria ed era un ambiente molto particolare e quindi a lui ho rubato, se così si vuol dire, il mestiere. Volevo suonare la Fisermoni in una maniera quasi che si raccontasse il mondo, non le solite note o cose virtuose. No, io volevo dare il sentimento che ha la Sicilia, queste luci e questi colori, perché la Sicilia è canciante. I tuoi allievi quando ti sentono suonare in classe, perché tu suonare in classe, cosa dicevano? Cantavano insieme a me ed erano felici e continuano a cantare tuttora e mi scrivono e quindi... Quindi anche a distanza di anni tu hai mantenuto un rapporto con i tuoi allievi. Mantengo contatto con i ragazzi che si trovano in giro per il mondo. Tra le loro storie ce n'è qualcuna particolare, qualcuno che ha avuto successo e qualcuno magari che ha avuto successo. Allora c'è un ragazzo che è il risultato, diciamo, l'hanno scritto pure i giornali, il più bravo in tutta Italia e quindi come studioso e quindi si è fatta avanti. Poi c'è Alessandra Salerno che ha cantato con me Palermo d'inverno, che ho scritto questa canzone ed è conosciutissima e va in tutto il mondo. Queste sono due persone. E poi ho ragazzi che si trovano all'estero, che si trovano al nord, che mi manifestano sempre la loro gioia perché faccio parte della loro vita, perché in fondo i mestieri più belli del mondo, dicono, non sono io a dire questa parola, incominciano con la M e sono il medico, il magistrato e il maestro. Quindi queste tre professioni. Io ho fatto il maestro, ho cercato di farlo, ho commesso tanti errori, però ho imparato tante cose. Ora che ho 70 anni mi rendo conto come i bambini sono più avanti degli adulti e quante cose ci possono insegnare, solo che noi non riusciamo a cogliere. Le diciamo tanto sul nicchio, non le ascoltiamo, le trattiamo. Invece no, guarda che loro riescono a risolvere anche i problemi dei grandi. Perché se il mondo fosse fatto di bambini non ci sarebbero guerre, per esempio. Non ci sarebbero le guerre che finiscono a colpi di caramelle e di bernacchette. Certo, nei giochi. Io ricordo un famoso micro saggio di Umberto Eco dove spiegava a tutti noi come non bisogna mai impedire i bambini di giocare alla guerra, perché se i bambini giocano alla guerra si rendono conto istintivamente che la guerra è brutta e che deve essere relegata soltanto a gioco e non a fatto reale e concreto. E di questo ne parlava anche Gianni Rotari, proprio le cose da non fare, appunto è proprio la guerra. Ma i bambini hanno una saggezza, un senso della giustizia, un senso delle curiosità che gli adulti nemmeno se le sognano. A me è capitato... Però con 40 anni di esperienza la scuola come istituzione ti ha aiutato o ti ha penalizzato in questo tuo modo di essere positivamente alternativo rispetto a quelli che sono i modelli educativi? Ma a certe volte mi sono trovato in difficoltà perché le maestre non mi hanno capito, non hanno capito dove volevo andare a parare e cosa volevo fare quando scrivevo i libri, perché certuni pensano che gli altri magari si vogliono mettere in mostra a cercare il successo. Per me le cose che cercavo volevo contribuire a migliorare la società, volevo contribuire a migliorare me stesso. Forse certe volte sono stato un poco così irruento, ho contrastato, ma era la mia passionalità, assolutamente. Io ho grande ammirazione per tutte le maestre che fanno questo lavoro con passione e so che i bambini per loro sono come i figli, però ogni tanto, ecco, dico anche alle maestre mettetevi nei miei panni, mi sono trovato sempre da solo, non c'era neanche un barrino con me che mi potevo confessare o dirgli una parola, tutte le maestre io da solo. È una situazione di... Il mestiere è declinato forse... A scomparire. Destinato a scomparire non lo so, ma il declinato... I maschi io ti dico, i maschi non lo vogliono fare più maestri. E perché non lo vogliono fare più maestri? Prima perché sono mal retribuiti, non puoi campare con quello che guadagni. Due perché è veramente un mestiere difficile e tre bisognerebbe far capire anche a tutti come questo lavoro è veramente bello e indispensabile, perché come ci vuole il padre e la madre ci vuole anche il padre e nelle scuole difficili, soprattutto la figura del maestro è una figura indispensabile. Quali quartieri hai insegnato? Io sono stato lì nei quartieri di Corso dei Mille quando ero all'Ingrazia, ho imparato tante cose, ho fatto anche un gemellaggio con Firenze, con i bambini di quel quartiere e le persone... parliamo di molti anni fa, tant'è che il Presidente della Repubblica Ciampi mi ha dato un riconoscimento come per le scuole difficili, per il lavoro che stavo facendo dal titolo l'Italia unita dai bambini. Quindi in quelle scuole ho imparato il dolore, ho imparato la sofferenza, ho visto un po' quante cose ci sono ancora da fare per avere una società più giusta. Ecco, fai un elenco delle cose che si devono ancora fare, che la politica e l'amministrazione devono fare per i bambini, partendo dalla scuola. Cosa manca alla scuola per essere veramente moderna? Il tuo modello d'approccio, anche se sembra molto artigianale, mi sembra innovativo e moderno. E tu hai iniziato 40 anni fa. Allora, io ho sempre immaginato, l'ho detto agli architetti, di costruire le scuole dove non ci sia nessun pericolo. Se tu vai in una scuola, qualsiasi trovi ancora dei materiali che non sono, come dire, a norma, con degli spazi giusti. Ogni scuola deve avere il suo teatro, i laboratori. Io sono andato in Germania e avevo nel pianoforte, nella stanza, laboratorio dove poter fare. Ogni stanza, diciamo, ogni classe era veramente attenzionata come il foo. Quindi incomincerai dall'architettura che c'è nelle scuole, mettendo i materiali adatti e bambini, che non ci sia nessun pericolo e poi che ci sia anche esperienze della scuola della Montessori, che insegnava i bambini ad affrontare le difficoltà, a sapersela cavare da soli, a imparare anche il piccolo mestiere, a sistemare le varie situazioni. A loro piace i bambini fare delle esperienze anche con degli attrezzi. Invece oggi è tutto ovattato, devo stare sempre attento. Le difficoltà ci sono, ce l'ha l'adulto e ce l'ha il bambino. Perché non cominciare a fargliela affrontare a lui? Non c'è anche una responsabilità a parte delle famiglie che delegano alle scuole e poi delegano ai sistemi informatici, ai tablet, ai cellulari, l'educazione. Proprio così. Una volta quando passava il maestro tutti si toglievano il cappello e sapevano che il maestro era un'autorità insieme al maresciallo dei carabinieri, al farmacista e al barbiere. Oggi l'aspettano fuori per dargli botte alle maestre se uno fa un rimprovero o dice qualcosa che non va. Insomma è un lavoro delicato perché devi instradare, devi portare delle indicazioni positive e siccome la vita è fatta di tante difficoltà, queste generazioni appena hanno una difficoltà, crollano perché non sono preparati a questa cosa che ti dico io, a vivere anche le esperienze e affrontarsela da solo e se uno si sbuccia in ginocchio non è la fine del mondo, può capitare, è capitata a tutti noi. Il problema non è cadere, ci sia qualcuno che ti insegna a rialzarti. A rialzarti, a farti capire che la difficoltà è anche quella, che la vita, gli obiettivi si raggiungono con il tempo, non arriva tutto all'improvviso. Tempo a sacrifici direi. Sacrifici, io ho cominciato a scrivere libri dopo una certa età, nel mio paese non potevo leggere libri perché c'erano diciamo armerie, ma è una biblioteca. Armerie sì c'erano, ma librerie non ne ho trovato, c'era una biblioteca e trascorrevo tutte le mie giornate là, mio padre mi veniva a prendere là perché non mi davano neanche libri, ero piccolo, diceva ci vuole la firma qua là e quindi mi sedevo lì e stavo lì e leggevo e alla fine questi libri mi sono stati utili per la vita. Allora io faccio una brevissima pausa e leggo una frase del tuo ultimo libro che si chiama La vita è un alfabeto, il titolo è importante. Mi rubi il mestiere perché tocca, non lo dovevo dire, diciamo siamo entrati in un tono abbastanza confidenziale, allora riepiloghiamo, facciamo la marcia indietro e ricordiamo a tutti che uno dei motivi per cui oggi sei qui non è soltanto per raccontare la tua storia e la tua analisi sul mondo delle scuole ma anche perché hai dato alle stampe per i tipi di Navarro Editore un libro di poesia che si chiama La vita è un alfabeto. La cosa particolare è che tu utilizzi un alfabeto un po' più ampio. Non sono poesie, sono racconti. Racconti. Comunque sono racconti che ho appreso dai bambini da questa lunga esperienza e li ho riportati per i bambini, per i genitori e per i nonni perché questo libro è una scatola che si passa da generazione in generazione. Prendi una scatola e la ti devo correggere perché tu scrivi che ci sono libri che possono cambiare la vita di un bambino ma in realtà da quello che mi dici potrebbero cambiare anche la vita di un nonno, di un papà. Certo, certo. Potrebbero cambiargli la prospettiva di come ha visto il mondo fino adesso e anche nei confronti dei bambini. Ma perché la vita è un alfabeto? Perché l'alfabeto è la matrice attraverso la quale si costruisce tutto o c'è qualcosa di ancora più profondo? Ancora di più profondo. Intanto con 21 lettere si possono scrivere le storie del mondo, si può amare, costruire o distruggere il mondo. Pensa alle 22 lettere. Infatti nella regione ebraica c'è tutto il concetto che non si deve scherzare con la manipolazione delle lettere, quindi bisogna andarci molto piano. Io ne ho utilizzati 26, anche quelle lettere straniere. Ho introdotto all'interno di questo libro degli argomenti che magari altri non portano. Quando parlo di Whatsapp e andiamo nella modernità, una bambina riesce a salvare la nonna e quindi io invito anche alle scuole di insegnare ai bambini quello che si può insegnare per salvare una persona. Perché i bambini sono molto attenti e dalle cronache di giornali ho letto più volte che sono riusciti a salvare degli anziani. La bambina salva la nonna attraverso Whatsapp in che modo? Perché fa un vocale in cui dice la nonna sta male e quindi la Croce Rossa è arrivata subito attraverso l'azia e hanno salvato questa signora che è rimasta, voglio dire, come dire, si è congratulata. Quindi tu hai un approccio poetico, un approccio anche, come dire, formativo, ma anche cronacistico, cioè racconti fatti veri che appartengono ai tuoi allievi o a storie che ti hanno raccontato. Sì, un bambino mi ha chiesto quali sono i segreti degli alberi e io ho detto datemi tre giorni di tempo che vi do una risposta e dopo tre giorni ho risposto a queste domande. Quante cose ci sono all'interno di un albero, una cosa straordinaria. Però qual è il problema? Rispondere a un bambino piccolo, dare una risposta che lui potesse accogliere, capire e l'hanno capito benissimo. E qual è il segreto dell'albero? Il segreto dell'albero è che se tu abbracci un albero, ecco, scarichi tutta la tua attenzione. Un albero ti fa sognare, ti fa pensare, è venuto prima di te. Attraverso la storia di un albero e tutta la vita che ha un albero c'è la vita di tutta l'umanità. Quello che non abbiamo capito nel momento in cui non rispettiamo l'ambiente, come se l'ambiente fosse qualcosa lontano da noi, in realtà l'ambiente è la nostra vita. E tante malattie vengono proprio perché noi non rispettiamo l'ambiente, perché l'ambiente è malato e perché non è possibile, insomma, lasciare le cose come stanno. Ognuno deve vedere la propria città, il proprio paese come la propria casa, la propria vita. Nel momento in cui avveleni qualcosa, stai avvelenando te stesso e anche gli altri. Quindi è un lavoro veramente delicato e importante per tutti noi. Infatti ad Agrigento ho detto voi diventerete capitale della cultura nel 2025, ma il primo problema è la socializzazione delle persone, il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei bambini, il rispetto degli anziani, di tutta la società. Cioè il mondo funziona bene se funziona tutto, se ognuno si coordina. Non è che perché c'è l'immondizia, posso dire, la colpa è del sindaco, la colpa è di chi amministra. La colpa è anche mia, perché io devo fare la mia parte. Se ci sono le regole dell'orario, la raccolta differenziata, bisogna farla come fanno a Trento. E io ai politici dico sempre viaggiate, vedete il mondo, guardate come fanno gli altri. E poi lo applichiamo anche tra... Prendete il meglio che hanno gli altri, prendiamo il meglio degli altri e facciamolo noi. Perché questa è la cosa, a Trento le biblioteche sono aperte pure di notte. Cioè i ragazzi studiano in una maniera... In molti paesi europei c'è l'abitudine di lasciare i libri sulle panchine e scambiare. Io arrivo, lascio un libro, ne prendo un altro. Questo grande sistema circolare di riciclaggio positivo del libro. In Olanda hanno una biblioteca, in ogni casa, moltissime famiglie, una piccola biblioteca. Guardate che importante, perché chi legge non sarà mai ingannato. Non ci può essere uno che ti viene a dire facciamo così o non facciamo così. Perché chi legge sa tante cose. Siamo abbastanza schiavi della televisione. Noi oggi siamo anche su internet e in televisione. Però stiamo lanciando un messaggio positivo. Un messaggio positivo di riflessione e di rivedere tutto, di rimettere in discussione positivamente e assumendoci le nostre responsabilità. Sempre e comunque. Perché è importante, secondo me, il lavoro che fanno i maestri è creare dei cittadini liberi, consapevoli, con una visione critica del mondo. Secondo te i bambini di ieri che tu hai seguito oggi sono dei cittadini liberi? Sono un po' più liberi degli altri bambini? Allora, quelli che ho seguito io erano molto rispettosi e non hanno mai toccato il carcere. Forse qualcuno lì, quando ero lì al corso dei mille, ho vissuto qualche esperienza del genere, ho cercato di aiutare questi bambini, ma gli altri si sono impegnati molto. Io un primo giorno in classe ho buttato il portafoglio a terra, ho detto ai bambini, se voi trovate dei soldi, che cosa fate? Sono successe cose strepitose, straordinarie. Alcuni avrebbero comprati gelati, cose, e poi ho detto dovete consegnarlo a un poliziotto, un vigile urbano, una persona, ecco, di avere fiducia nelle istituzioni. E uno mi ha fatto una domanda, dice se poi questi soldi loro non li consegnano, che succede? Mi ha fatto una domanda tosta, che io da adulto ho detto, vedi, chissi un po' più vermiglio, mi ha fatto una domanda, ho detto no, vedi che questo non succede, quindi l'ho chiusa così la parabola. Quindi l'adulto è sempre sotto osservazione del bambino, quindi deve dare sempre l'esempio e deve dare sempre una risposta, come tutti noi, siamo sempre sotto osservazione. Al di là di quello che diciamo, sono i fatti che poi stabiliscono, diciamo, la nostra presenza in questo mondo. Cosa ti manca più della scuola, visto che da tre, quattro anni, da un breve lato di tempo sei in pensione? Mi mancano i bambini, però ritornerò questa settimana nella scuola dove ho insegnato, perché voglio portare un omaggio ai bambini. Vai a raccontare la tua storia. Li voglio riabbracciare. Andrà a stare con la tua fisarmonica. Sì, con la fisarmonica, che per me è una compagna di vita e me la porto dovunque vado. Io ho suonato in un gruppo musicale, che era il gruppo Popolare Pavarese, con Antonio Zarcone, ed abbiamo girato tutto il mondo suonando le musiche dei barbieri. Leggendo un po' la tua biografia, tu hai studiato pure a Milano, sei stato anche vicino al gruppo di Dario Fo. Sì, perché siamo andati a trovarli quando c'era Ciccio Busacca, e mi ha rappresentato Ciccio Busacca, il quale imparava tutto a memoria. Io non so chi sia Ciccio Busacca. Un cantastorie importante. Uno dei cantastorie con i cartelloni che girava per la Sicilia, e raccontava tutte le storie che avvenivano, storie di sangue, storie belle, storie d'amore. Ecco, erano i giornalisti di un tempo che con il cartellone si mettevano sopra le automobili e raccontavano queste storie. La gente dei paesi si avvicinava. Chissà se un giorno non torneremo a fare informazione così. Questa potrebbe essere una buona idea. Il cantastorie. Venivano alla piazza e pensa che uno aveva la figlia che si stava per sposare e l'ha fatto aspettare il prete più di mezz'ora perché non poteva lasciare la storia di Ciccio Busacca che non terminasse. E quindi è con Dario Fo che cosa avete combinato? Allora, Dario Fo io lo devo sempre ringraziare perché quando siamo andati da lui ero io con Antonio Zarcone, questo mio compagno di infanzia, volevamo fare un programma per la televisione e lui ci ha messo in contatto con un funzionario della televisione della RAI ma non era una raccomandazione, era un provino. Noi dovevamo fare un provino con questo signore. Abbiamo fatto questo provino e la RAI mi ha permesso di fare mezz'ora, 30 minuti prima del telegiornale, era da l'una a l'una e mezza dagli studi due di Milano. Quindi ho fatto questa cosa, poi lo ascoltavo, abbiamo conversato, abbiamo parlato. Erano quelle esperienze con Virgilio Savona, Michele Starniero, Dario Fo e Giovanili che mi hanno permesso di maturare quelle esperienze che ora sto riportando sui libri. E poi di decidere di fare il maestro, insegnare di devozione a San Francesco e dedicare la tua vita ai bambini. Esatto, questo è stato il riepilogo in fondo della mia vita e mi sono posto tante domande e vedo che ho commesso tanti errori. Ma chi non le commette? È anche necessario commettere errori nella vita per crescere? Come si fa a imparare? Sì, ma io questo lo dico perché oggi a 70 anni sono più saggio e riesco a capire le cose, le persone, le situazioni, riesco a trovare anche, come dire, una spiegazione, riesco a capire un comportamento di una persona, riesco a capire di più quello che non capivo quando avevo 20 anni, per esempio che ero il ruento e mi sembrava che il mondo lo potessi prendere con le mani. Tutto questo, non tutto questo, una parte di questo, ma sicuramente tante altre storie, voi le potete trovare in questo libro di Maurizio Piscopo, La vita è un alfabeto, ricordo è per i tipi di Navarra Editore, sottolineiamo il fatto che Navarra Editore è un editore siciliano, che fare editore in Sicilia è uno sforzo veramente improbo, è delle collane molto interessanti. È illustrato da Tiziana Viola Massa, c'è una prefazione di Salvatore Verlita, come forse l'ho detto all'inizio. Se avete voglia di leggere un bel libro che vi riconcili con l'armonia dei bambini, con la serenità, è una buona occasione per fare una lettura interessante. Io a questo punto non posso fare altro che ringraziare Maurizio Piscopo per il tempo molto sereno che ci ha ringraziato, inizio a capire perché i tuoi allievi a scuola erano così felici e ti guardavano sempre con gli occhi brillanti. Magari ci rivediamo qui in studio qualche altra volta per parlare di musica, visto che tu sei anche un esperto di musica. Certamente, io ringrazio te per le domande che mi hai fatto, ringrazio appunto il blog Sicilia e spero di ritornare un'altra volta e approfitto di questo spazio per salutare tutti i bambini con i quali ho lavorato in questi anni e voglio fare un appello che l'ho fatto anche l'altro giorno, sto cercando un bambino che si chiama Mustafa che è stato adottato e mi piacerebbe rivederlo per poterlo salutare. Però dovremmo dare anche qualche informazione. Mustafa dove... Veniva dall'Africa sariana, veniva dall'Africa ed è stato adottato a Partinico, mi hanno detto, però non so se vive ancora a Partinico. Lo vorrei rivedere e riabbracciare perché è stato mio allievo in prima elementare. Quanti anni sono passati? Così magari vediamo di capire bene... Quattro anni. Quattro anni, quindi dovrebbe avere quasi dieci anni adesso Mustafa. Esattamente, dieci anni. Quindi Mustafa... Chissà, magari mi sta vedendo in questo momento... Facciamo una catena di solidarietà, se state guardando il maestro Piscopo... Sono contento di rivederti, di riabbracciarti, vorrei che il mondo per te desse quello che non ti ha dato finora, ma credo che in questo periodo avrai scoperto la bellezza di una famiglia, la bellezza della Sicilia, anche perché anche la Sicilia è un modo di vivere. È un modo per ricominciare bene. Esatto. Grazie a Maurizio Piscopo, scusate la gaffa, il piccolo lapsus, e ci rivediamo alla prossima puntata di Talk Sicilia. Buona serata e arrivederci.